il piccolo george a quattro zampe nel viale faceva montagne di sabbia ne raccoglieva con le due mani e infine si piantava sulla sommità di una foglia di castagno suo padre seduto su una sedia di ferro lo contemplava con un'attenzione concentrata e amorosa non vedeva che lui nell'angusto giardino pubblico pieno di gente lungo l'intero viale curvo che passa davanti alla vasca e davanti alla chiesa della trinité per poi tornare indietro dopo aver costeggiato il prato altri bambini erano occupati allo stesso modo nei loro piccoli giochi da cuccioli mentre le governanti indifferenti guardavano per aria con i loro occhi abbruttiti e mentre le madri chiacchieravano tra loro vigilando sulla marmaglia con continue occhiate nutrici passeggiavano a due a due con aria seria lasciando strascicare dietro sé i lunghi nastri smaglianti dei loro capelli e portando tra le brazza qualcosa di bianco avvolto nei merletti mentre ragazzine con i vestiti corti e le gambe nude si intrattenevano in seri colloqui tra due corse con il cerchio e il custode in camice verde errava in mezzo a quel popolo di marmocchi aggirandosi tortuosamente per non demolire quelle opere di terra per non disturbare il lavoro da formiche di quelle minuscole larve umane il sole stava per eclissarsi dietro i tetti di cui San Nocer e proiettava i suoi grandi raggi obliqui su quella folla birichina e agghindata i castagni si illuminavano di riflessi gialli e tra le cascate davanti all'alto portale della chiesa sembravano d'argento liquido il signor parent guardava suo figlio accovacciato nella polvere seguiva i suoi più piccoli gesti con amore sembrava inviare baci con la punta delle labbra a tutti i movimenti di george ma alzando gli occhi verso l'orologio del campanile constatò che era in ritardo di cinque minuti allora si alzò preso in braccio il piccino scrollò i suoi indumenti pieni di terra asciugò le sue mani e lo portò con sé verso Rue Blanche affrettava il passo per non rientrare dopo sua moglie il ragazzino che non riusciva a seguirlo trotterellava al suo fianco allora il padre lo prese in braccio e accelerando ancora l'andatura cominciò a sbuffare di fatica risalendo il marciapiede in pendenza era un uomo di 40 anni già abrizzolato un po' corpulento che portava a spasso con aria inquieta un buon ventre da ragazzo gioviale che gli eventi hanno reso timido qualche anno prima aveva sposato una giovane donna amata teneramente e che ora lo trattava con una durezza e un'autorità da despota onnipotente e lo sgridava in continuazione per tutto ciò che faceva e per tutto ciò che non faceva gli rimproverava aspramente ogni sua piccola azione le sue abitudini, i suoi piaceri semplici il suo comportamento, i suoi gesti la rotondità della vita e il suono placido della voce tuttavia lui l'amava ancora ma soprattutto amava il figlio che aveva avuto da lei, George e che ora aveva tre anni ed era diventato la gioia più grande e la maggior preoccupazione del suo cuore aveva una modesta rendita e viveva senza un impiego con quei suoi 20.000 franchi di capitale sua moglie, sposata senza dote si indignava in continuazione dell'inazione di suo marito finalmente arrivò a casa depose il bimbo sul primo gradino delle scale si asciugò la fronte e cominciò a salire al secondo piano suonò una vecchia domestica che l'aveva allevato una di quelle serve padrone che tirannezzano le famiglie venne ad aprire lui chiese con una goscia la signorina è rientrata la domestica scrollò le spalle da quando in qua il signore ha visto la signora rientrare per le sei e mezza parente rispose un po' seccato beh, tanto meglio così avrò il tempo di cambiarmi sono molto accaldato la serva lo guardava con una pietà irritata e sprezzante mucugnò oh, lo vedo bene il signora è in un bagno di sudore il signore ha corso avrà portato il bambino in braccio e tutto questo per aspettare la signora fino alle sette e mezza a me invece non mi batte nessuno nell'esser pronta all'ora giusta preparo la cena per le otto io e se si ritarda pazienza un arrosto non deve essere bruciato il signor parente fingeva di non ascoltare mormorò va bene, va bene bisogna lavare le mani di George che ha fatto le forme di sabbia io vado a cambiarmi raccomando alla cameriera di pulire bene il piccino lui entrò nel suo appartamento una volta dentro tirò il chiavistello per essere solo davvero solo completamente solo era talmente abituato ormai a vedersi malmenato e maltrattato da sentirsi sicuro soltanto sotto la protezione delle serratura non osava nemmeno più pensare riflettere ragionare tra sé se non si sentiva garantito da un giro di chiave contro gli sguardi e le supposizioni accasciatosi su una sedia per riposarsi un po' prima di indossare indumenti puliti pensò che Julie cominciava a costituire un nuovo pericolo in casa odiava sua moglie era evidente odiava soprattutto il suo amico Paul Limousin rimasto cosa rara amico intimo e familiare della coppia dopo essere stato l'inseparabile compagno di parente durante la sua vita da scapolo Limousin faceva da lubrificante e da cuscinetto tra lui ed Henriette lo difendeva anche vivacemente anche severamente contro i rimproveri immeritati contro le scenate assillanti contro tutte le miserie quotidiane della sua esistenza ma ecco che negli ultimi sei mesi Julie si sentiva autorizzata a continui rimproveri ed apprezzamenti malevoli sulla sua persona la giudicava in ogni occasione dichiarava venti volte al giorno se fossi uomo non mi lascerai menare per il naso in questo modo insomma, insomma ecco ognuno ha il suo carattere un giorno era stata perfino insolente con Henriette che la sera si era accontentata di dire al suo marito senti alla prossima parola fuori posto di quella la caccio via tuttavia lei che non aveva paura di niente sembrava temere la vecchia domestica e parente attribuiva questa mansuetudine a una certa considerazione per la donna che lo aveva cresciuto che aveva chiuso gli occhi di sua madre ma era finita le cose non potevano più andare avanti così a lungo e l'uomo tremava all'idea di ciò che poteva succedere che cosa avrebbe fatto? licenziare Julie gli appariva una risoluzione così tremenda che non osava neppure indugiarvi col pensiero dalle ragioni contro sua moglie sarebbe stato ugualmente impossibile di lì a un mese la situazione sarebbe diventata insostenibile tra le due restava seduto con le braccia afflosciate cercando vanamente qualche sistema per conciliare tutto senza peraltro trovare nulla allora mormorò per fortuna o Georges senza di lui sarei davvero infelice poi gli venne in mente di consultare l'imusain si decise ma ad un tratto il ricordo dell'inimicizia nata tra la domestica e il suo amico gli fecero temere che quest'ultimo ne avrebbe consigliato la cazzata sicché si ritrovava di nuovo confuso nelle sue angosce e nelle sue incertezze la pendola suonò le sette parente sussultò le sette e non si era ancora cambiato allora spaventato concitato si spogliò si lavò indossò una camicia bianca e si rivestì precipitosamente come se fosse stato atteso nella stanza vicina per un avvenimento di estrema importanza poi entrò nel salotto felice di non avere più nulla da temere gli edo un'occhiata al giornale andò a guardare per strada tornò a sedersi sul divano ma una porta si aprì entrò il suo figlio pulito pettinato sorridente parente lo prese tra le braccia e lo baciò appassionatamente prima sui capelli poi sugli occhi sulle guance sulla bocca sulle mani poi lo fece saltare in aria sollevandolo fino al soffitto sopra i suoi polsi infine si sedette stanco di quello sforzo e prendendo George su un ginocchio lo fece giocare dondolandolo il bambino rideva incantato agitando le brazzine lanciando gridolini di piacere e anche il padre rideva e gridava di contentezza agitando il grosso ventre divertendosi forse ancor più del piccolo lo amava con tutto il suo buon cuore di debole di rassegnato di umiliato lo amava con slanci folli con grandi carezze impetuose con tutta la pudica tenerezza nascosta in lui che non era mai potuta uscire non aveva mai potuto espandersi neanche nelle prime ore del suo matrimonio perché sua moglie si era mostrata aspra e riservata fin dall'inizio Julie apparve sulla porta col vicio palli dagli occhi lucidi annunciando con voce tremante per l'esasperazione sono le sette e mezza signore parente gettò sulla pendola uno sguardo inquieto e rassegnato murmurando effettivamente sono le sette e mezza ecco la mia cena ora è pronta sentendo odore di tempesta parente cercò di schivarla ma non mi hai detto quando sono rientrato che non l'avresti preparata prima delle otto alle otto non direte sul serio ora vorreste far mangiare il bambino alle otto si dice tanto per dire ma si distruggerebbe lo stomaco al piccino se lo si facesse mangiare alle otto o dipendesse solo da sua madre come se ne preoccupa di suo figlio bella madre davvero fa proprio pena vedere madri così parente tutto tremato d'angoscia sentì che bisognava tagliar netto quella minacciosa scenata Julie disse non ti permetto di parlare così della tua padrona hai capito non dimenticartene in futuro la vecchia serva soffocata dallo stupore girò i tacchi e uscì sbattendo la porta con tanta violenza che tutti i cristalli del lampadario tintinnarono per qualche secondo fu una specie di lieve e vaga suoneria di campanelle invisibili che volteggiavano nell'aria silenziosa del salotto George sorpreso sulle prime cominciò a battere le mani felice e gonfiando le guance fece un grosso boom con tutta la forza dei suoi polmoni per imitare il frastuono della porta allora suo padre gli raccontò delle storie ma la preoccupazione della sua mente gli faceva perdere continuamente il filo del racconto e il piccino che non capiva più sgranava occhi stupiti parente non toglieva gli occhi dalla pendola gli sembrava di veder camminare la lancetta avrebbe voluto fermare il tempo renderlo immobile fino all'arrivo di sua moglie non era arrabbiato con Henriette per il suo ritardo ma aveva paura paura di lei e di Julie paura di tutto ciò che poteva accadere dieci minuti di più sarebbero bastati per provocare una catastrofe irreparabile spiegazioni e violenze che non osava neppure immaginare il solo pensiero dell'alite delle urla degli insulti che avrebbero attraversato l'aria come pallottole delle due donne faccia a faccia che si sarebbero guardate in fondo agli occhi e si sarebbero scagliate addosso parole offensive gli faceva battere il cuore gli seccava la bocca come una marza sotto il sole lo rendeva floscio come uno strazzo così floscio che non aveva più la forza di sollevare suo figlio e di farlo saltare sulle sue ginocchia suonarono le otto la porta si riaprì e apparve nuovamente giù lì non aveva più un'aria esasperata ma un'aria risoluta malvagia e fredda ancor più temibile signore disse ho servito a vostra madre fino all'ultimo giorno e ho cresciuto da quando siete nato fino ad oggi credo si possa dire che sono devota alla famiglia rimase in attesa di una risposta parente balbettò ma sì cara Julie proseguì sapete bene che non ho mai fatto niente per denaro ma sempre nel vostro interesse che non vi ho mai ingannato né mentito che non avete mai avuto motivo di rimproverarmi ma sì cara Julie ebbene signore non può durare più a lungo per l'amicizia che vi porto non dicevo niente vi lasciavo nella vostra ignoranza ma ora è troppo ridono troppo di voi nel quartiere fate ciò che volete ma lo sanno tutti alla fin fine bisogna che ve lo dica perché la cosa non dovrebbe riguardarmi e la signora l'incasa in ore così fantastiche è perché fa cose abominevoli parente restava mutolito non capiva potei soltanto balbettare taci sai che ti ho difeso Julie gli troncò la frase sulle labbra con una determinazione irresistibile no signore bisogna che vi dica tutto ora da molto tempo la signora vi inganna con il signor limousain ti ho visti più di venti volte baciarsi dietro le porte oh su via se il signor limousain fosse stato ricco la signora non avrebbe certo sposato il signor parente se il signore rammentasse semplicemente come è andato il matrimonio capirebbe tutto quanto al volo parente si era alzato livido balbettante taci taci oh Julie continuò no vi dirò tutto la signora ha sposato il signore per interesse e l'ha ingannato fin dal primo giorno erano d'accordo tra loro accidenti basta riflettere per capirlo allora siccome la signora non era contenta ad aver sposato il signore che non amava mi ha reso la vita dura così dura da straziarmi il cuore a me che vedevo tutto parente fece due passi con i pugni stretti ripetendo taci taci perché non sapeva cosa rispondere la vecchia serva non indietrezzò sembrava decisa a tutto ma George da prima stupito poi terrorizzato da quelle voci di rimprovero cominciò a lanciare grida acutissime restava in piedi dietro suo padre con il visetto contratto e la bocca aperta urlava il clamore di suo figlio esasperò parente lo riempì di coraggio e di furore si precipitò verso Julie con le braccia alzate pronti a colpire con le mani e gridando ah miserabile così farai uscire di senno il bambino gli era già addosso ma lei gli gridò in faccia il signore può picchiarmi se vuole picchiare me che l'ho cresciuto ciò non impedisce che sua moglie lo inganni e che suo figlio non sia suo parente si fermò di colpo lasciò ricadere le braccia restava di fronte a lei talmente confuso da non capire più niente lei aggiunse basta guardare il piccino per riconoscervi il padre diamine è il ritratto del signor Limousin non bisogna far altro che guardare i suoi occhi e la sua fronte non si ingannerebbe neppure un cieco ma lui l'aveva ferrata per le spalle e la scuoteva con tutte le forze balbettando vipera vipera fuori di qui vipera vattene altrimenti ti ammazzo vattene vattene e con uno sforzo disperato la lanciò nella stanza attigua Julie cadde sulla tavola apparecchiata i cui bicchieri si abbatterono e andarono in pezzi poi rialzandosi mise la tavola tra lei e il padrone e mentre lui la inseguiva per riacciuffarla la egli sputava in pieno volto parole terribile il signore non ha che da uscire stasera dopo cena e rincasare subito vedrà vedrà se ho mentito ci provi e vedrà Julie aveva raggiunto la porta della cucina e si mise in salvo parente la inseguì salì le scale di servizio fino alla camera di Julie dove quest'ultima si era chiusa a chiave e urtando la porta lascerai questa casa immediatamente lei rispose attraverso il pannello di legno il signore può contarsi tra un'ora non ci sarò più allora l'uomo ridiscese lentamente aggrappandosi alla rampa per non cadere tornò nel salotto dove George piangeva seduto per terra parente si accasciò su una sedia e guardò il fanciullo con occhi inebetiti non capiva più niente non sapeva più niente si sentiva stordito abbruttito folle come se avesse battuto la testa rammentava a stento le cose orribili che gli aveva detto la sua domestica poi a poco a poco la sua ragione come un'acqua intorbidita si calmò e tornò limpida e l'abominevole rivelazione cominciò a rodargli il cuore Julie aveva parlato così chiaro con una tale forza con una tale sicurezza una tale sincerità che non dubitò della sua buona fede ma si ostinava a dubitare della sua chiaroveggenza poteva essersi incannata accecata dalla sua devozione per lui trascinata da un inconsapevole odio verso Henriette tuttavia a mano a mano che tentava di rassicurarsi e di convincersi mille piccoli fatti si svegliarono nel suo ricordo parole di sua moglie sguardi di Limousain un mucchio di nezze inosservate quasi inavvertite uscite tarda ora assenze simultanee perfino gesti quasi insignificanti sicuri e bizzarri che non aveva saputo vedere e comprendere e che ora assumevano per lui un'estrema importanza stabilivano una connivenza tra quei due tutto quanto era accaduto dopo il fidanzamento scaturiva bruscamente nella sua memoria sovraeccitata dall'angoscia ritrovava tutto intonazioni singolari atteggiamenti sospetti e la sua povera mente di uomo calmo e buono assillata dal dubbio ora gli mostrava come certezze cose che ancora sarebbero potuto essere soltanto sospetti frugava con accanita ostinazione nei suoi cinque anni di matrimonio cercando di ritrovare tutto mese dopo mese giorno dopo giorno e ogni cosa inquietante che scopriva gli trafiggeva il cuore come il pungiglione di una vespa non pensava più a George che ora taceva dietro di lui sul tappeto ma vedendo che nessuno si occupava di lui il piccino si rimise a piangere suo padre allora si lanciò lo prese tra le braccia e gli coprì la testa di Baci gli restava almeno suo figlio che importava il resto lo teneva lo stringeva la bocca nei suoi capelli biondi confortato consolato balbettando George mio piccolo George caro piccolo George ma bruscamente rammentò ciò che aveva detto Julie si aveva detto che il suo figlio era di Limousin oh non era possibile per Dio no non poteva crederci non poteva sospettarlo neppure per un secondo era solo una di quelle odiose infamie che germinano nelle anime ignobili delle serve ripeteva George mio caro George il bambino accarezzato si era placato di nuovo Parent sentiva il calore del piccolo petto penetrare nel suo attraverso la stoffa quel calore lo riempiva d'amora di coraggio di gioia quel calore dolce di fanciullo lo accarezzava lo fortificava lo salvava allora scostò un po' da sé quella testolina riccioluta per guardarla con passione la contemplava avidamente perdutamente ubriacandoci di quella vista e ripetendo sempre oh piccino mio mio piccolo George d'un tratto pensò e si assomigliasse a Limousin avvenne in lui qualcosa di strano di atroce una lancinante e violenta sensazione di freddo in tutto il corpo in tutte le membra come se le sue ossa improvvisamente fossero diventate di ghiaccio oh si assomigliasse a Limousin e continuava a guardare George che ora rideva non guardava con occhi smarriti torbidi sconvolti e cercava nella fronte nella bocca nelle guance qualcosa della fronte delle guance della bocca o del naso di Limousin il suo pensiero si smarriva come quando si diviene folli il viso di suo figlio si trasformava sotto il suo sguardo assumeva aspetti bizzarri rassomiglianza inverosimili giulia aveva detto non si ingannerebbe neppure un cieco c'era dunque qualcosa di sorprendente qualcosa di innegabile ma che cosa la fronte si forse tuttavia Limousin aveva la fronte più stretta allora la bocca ma Limousin portava la barba come constatare la relazione tra quel grosso mento infantile e il mento barbuto di quell'uomo parente pensava non lo noto non mi accorgo di nulla sono troppo turbato ora non potrei riconoscere nulla bisogna aspettare non guarderò bene domani mattina lavandomi e pensò ma se somiglia a me sarò salvo salvo e attraversò il salotto in due falcate per andare a esaminare nello specchio la faccia di suo figlio accanto alla sua teneva George seduto sul brazzo affinché i loro volti fossero il più vicini possibili e parlava a voce alta tanto era grande il suo smarrimento sì abbiamo lo stesso naso lo stesso naso forse non è sicuro nello stesso sguardo ma no lui ha gli occhi azzurri allora oh dio mio mio dio mio dio divento pazzo non voglio più vedere divento pazzo scappò lontano dallo specchio dalla parte opposta del salotto cadde su una poltrona posò il piccino su un'altra e si mise a piangere piangeva con grandi singhiozzi disperati George stupito di sentir gemere suo padre cominciò subito ad urlare suonò il campanello della porta parente fece un balzo come se fosse stato attraversato da una pallottola disse eccola che cosa farò e corse a chiudersi nella sua stanza per avere almeno il tempo di asciugarsi gli occhi ma dopo pochi secondi una nuova scampannellata lo fece ancora sobbalzare poi si ricordò che Julie se n'era andata senza che la cameriera fosse stata avvertita nessuno dunque sarebbe andato ad aprire che fare andò lui ecco che tutto un tratto si sentiva coraggioso risoluto pronto per la dissimulazione e la lotta la spaventosa scossa l'aveva maturato in pochi istanti e poi voleva sapere lo voleva con tutto il furore del timido e con la tenacia del bonaccione esasperato eppure tremava era paura sì forse aveva ancora paura di lei chissà quanta viltà frustrata si cela a volte dietro l'audacia dietro la porta che aveva raggiunto con passo furtivo si fermò per ascoltare il suo cuore batteva a colpi furiosi udiva soltanto quel rumore quei gran colpi sordi nel suo petto e la voce acuta di George che continuava a gridare nel salotto l'improvviso il suono del campanello scoppiando nella sua testa lo scosse come un'esplosione allora afferrò la serratura e ansimando sentendosi venir meno fece girare la chiave e tirò il battente sua moglie e Limousin erano in piedi di fronte a lui sulle scale lei disse con aria di stupore da cui traspariva una certa irritazione da quando in qua vieni tu ad aprire dov'è Julie? lui aveva la gola stretta la respirazione accelerata si sforzava di rispondere senza riuscire a pronunciare una parola lei proseguì è diventato muto ti ho chiesto dov'è Julie? allora parente balbettò lei è è andata via sua moglie cominciò ad arrabbiarsi come è andata via? dov'è? perché? lui ritrovava poco a poco il suo controllo e sentiva nascere in sé un odio irritante contro quella donna insolente in piedi davanti a lui sì è andata via per sempre l'ho licenziata l'hai licenziata? Julie ma sei pazzo? sì l'ho licenziata perché era stata insolente e perché ha maltrattato il bambino Julie sì Julie a proposito di che cosa è stata insolente? a proposito di te a proposito di me? sì perché aveva bruciato la cena e tu non rincasavi e ha detto ha detto cose sgarbate nei tuoi confronti e che io non dovevo non potevo sentire quali cose? è inutile ripeterle desidero conoscerle ha detto che era una grande sventura per un uomo come me aver sposato una donna come te mai puntuale disordinata trascurata cattiva padrona di casa cattiva madre e cattiva sposa la giovane donna era entrata nell'anticamera seguita da limousin che non diceva una parola dinanzi a quella situazione inattesa lei chiuse bruscamente la porta dettò il mantello su una sedia e marciò dritta verso suo marito balbettando esasperata vuoi dire vuoi dire che sono parente era pallidissimo calmissimo rispose io non dico niente mia cara ti ripeto soltanto le frasi di julie che tu hai voluto conoscere e ti faccio notare che l'ho messa alla porta proprio a causa di queste frasi arriette fremeva del violento desiderio di strappargli la barba e le guance con le unghie nella voce nel tono nel comportamento intuiva chiaramente la ribellione benché non potesse rispondere nulla e così cercava di riprendere l'offensiva con qualche parola diretta e ingiuriosa hai senato gli chiese no ti ho aspettato e scrollo le spalle spazientita è sciocco aspettare dopo le sette e mezza avresti dovuto capire che ero stata trattenuta che avevo avuto delle commissioni dei giri da fare poi tutt'antratto sentì il bisogno di spiegare come aveva impiegato il proprio tempo e raccontò con frasi brevi altere che mentre si trovava a scegliere dei mobili lontano molto lontano in rue de Rennes tornando aveva incontrato Limousin alle sette passate in boulevard Saint Germain e che allora gli aveva chiesto di accompagnarla a mangiare un boccone in un ristorante dove non osava entrare da sola benché si sentisse svenire dalla fame ecco come aveva accenato con Limousin se la si poteva chiamare cena infatti avevano preso solo un brodo e mezzo pollo tanto avevano fretta di tornare parente rispose semplicemente ma hai fatto bene non ti rimprovero per questo allora Limousin rimasto muto fino a quel momento quasi nascosto dietro Henriette si avvicinò e tese la mano mormorando come stai parente prese quella mano offerta e stringendola mollemente benissimo grazie ma la giovane donna aveva accolto una parola nell'ultima frase di suo marito rimproveri perché parli di rimproveri si direbbe che hai qualche idea per la testa lui si scusò no affatto volevo semplicemente risponderti che non mi ero inquietato per il tuo ritardo e che non te ne facevo una colpa lei regi con arroganza cercando un pretesto per litigare per il mio ritardo sembra quasi che sia l'una del mattino e che abbia trascorso la notte fuori di casa ma no chiara ho detto ritardo perché non mi viene in mente un'altra parola dovevi tornare alle sei e mezza e invece sei tornata alle otto e mezza se questo non è un ritardo lo capisco benissimo io non 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 me ne stupisco neppure ma 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 mi è difficile usare un altro termine il fatto è che lo pronunci come se avessi dormito fuori casa ma no ma no arriate intui che avrebbe finito per cedere come al solito e stava per rientrare nella sua camera quando si accorse che george urlava allora chiese col viso agitato che cos'ha il bambino ti ho detto che julie lo aveva un po' malmenato che cosa gli ha fatto quella canaglia oh quasi niente lo ha spinto ed è caduto la donna volle vedere suo figlio e si precipitò nella sala da pranzo quindi si fermò di colpo davanti alla tavola coperta di vino versato di caraffe e di bicchiari in frantumi di saliere rovesciate che cos'è questo fracasso è julie che ma lei gli troncò la parola furibonda ah insomma questo è troppo julie mi dà della svergognata picchi a mio figlio rompe i piatti mette a soccuadro la mia casa e a quanto pare tu trovi tutto questo naturale ma no dal momento che l'ho licenziata ma davvero l'hai licenziata bisognava farla arrestare e in questi casi si chiama il commissario di polizia lui balbettò ma cara non potevo non c'era ragione davvero era molto difficile lei scrollò alle spalle con infinito disprezzo tu non sarai mai nient'altro che uno straccio un poveraccio un miserabile senza volontà senza fermezza senza energia ah devi avertene dette julie per spingerti a metterla alla porta avrai voluto esserci per un minuto un solo minuto dopo aver aperto la porta del salotto corse da george lo sollevò lo strinse tra le brazza baciandolo george cos'hai gattino tesoro pulcino accarezzato da sua madre si zittì lei ripetè che cos'hai il bimbo rispose avendo visto male con i suoi occhi di bambino terrorizzato è zulie che ha picchiato papà riet si girò verso suo marito da prima stupefatta poi una voglia matta di ridere si destò nel suo sguardo attraversò come un fremito le sottili guanze sollevò il labbro e le pinne del naso e infine sgorgò dalla bocca in un limpido getto di ilarità in una cascata di allegria sonora e viva come un gorgheggio di uccello ripeteva con gridolini malvagi che passavano tra i suoi denti bianchi e straziavano parente come morsi ah 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 lei ti ha picchiato ah ah che buffo che buffo avete sentito limousin julia ha picchiato mio marito ah 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 che buffo parente balbettava ma no ma no non è vero non è vero sono io al contrario che l'ho scaraventata nella sala da pranzo così forte che ha rovesciato la tavola il bambino ha visto male l'ho picchiata io mariette diceva al suo figlio ripeti pulcino è stata julie a picchiare il papà rispose sì è stata julie poi passando subito a un'altra idea continuò ma non ha cenato questo bambino non hai mangiato niente tesoro no mamma allora si volse furiosa al suo marito ma allora sei pazzo mille volte pazzo sono le otto e mezza e george non ha cenato parente si scusò confuso della scenata e delle sue spiegazioni schiacciato sotto il crollo della propria vita ma cara ti aspettavamo non volevamo cenare senza di te visto che eri in casi tutti i giorni in ritardo pensavo che saresti arrivata da un momento all'altro henriette lanciò in una poltrona il cappello tenuto fino a quel momento sulla testa e con voce nervosa è veramente intollerabile avere a che fare con persone che non capiscono niente che non intuiscono niente che non sanno fare niente da sole allora se fossi tornata a mezzanotte il bambino non avrebbe mangiato affatto come se tu non potessi comprendere che alle sette e mezza passate potevo aver avuto un impedimento un ritardo un intralcio parente tremava sentendo la propria collera vincerlo a poco a poco ma l'immusen si intromise rivolgendosi alla giovane donna siete troppo ingiusta mia cara parente non poteva indovinare che sareste tornata così tardi cosa che non vi capita mai e poi come volevate che potesse cavarsela tutto solo dopo aver licenziato julie ma enriette esasperata rispose e invece deve sapersela cavare perché io non lo aiuterò mai si arrangi ed entrò bruscamente nella sua camera dimenticando che il suo figlio non aveva mangiato allora l'immusen d'un tratto si diede da fare per aiutare l'amico raccolse e tolse i vetri rotti che coprivano la tavola apparecchiò di nuovo e mise a sedere il bambino sul seggiolone mentre parente andava a chiamare la cameriera per farsi servire da lei arrivò tutta stupita non avendo udito nulla nella camera di george dove lavorava portò la minestra e un arrosto bruciato poi un porè di patate parente si era seduto accanto al suo figlio avvilito incapace di ragionare in quella catastrofe faceva mangiare il piccino tentava anche lui di mangiare tagliava la carne la masticava e la mandava giù con sforzo come se la gola gli si fosse paralizzata allora poco a poco nella sua anima si svegliò un desiderio sconvolto di guardare l'emusain seduto di fronte a lui e che arrotolava palline di pane ma non osava alzare gli occhi voleva vedere se assomigliava a george tuttavia si decise e considerò bruscamente quel volto che conosceva bene benché gli sembrasse di non averlo mai esaminato tanto gli parve differente da ciò che pensava di secondo in secondo gettava un'occhiata rapida su quel viso cercando di ravvisarne ogni minimo lineamento ogni minimo tratto ogni minima espressione poi istantaneamente guardava suo figlio con la scusa di farlo mangiare due parole gli rombavano nell'orecchio suo padre suo padre suo padre ronzavano nelle tempie insieme a ogni battito del cuore sì quell'uomo quell'uomo tranquillo seduto alla parte opposta della tavola era forse il padre di suo figlio di george del suo piccolo george parente smise di mangiare non ci riusciva più un dolore atroce uno di quei dolori che fanno urlare rotolare per terra mordere i mobili traziava tutto il suo corpo ebbe voglia di prendere il coltello e di affondarselo nel ventre ciò gli avrebbe dato sollievo ma avrebbe sollevato sarebbe finita difatti come avrebbe potuto vivere ormai come vivere alzarsi al mattino mangiare all'ora dei pasti uscire per strada coricarsi la sera e dormire di notte con quel pensiero conficcato dentro di sé il musè il padre di george no non avrebbe più avuto la forza di fare un passo di vestirsi di pensare a niente di parlare a nessuno ogni giorno ogni ora in ogni secondo si sarebbe chiesto questo avrebbe cercato di sapere di indovinare di smascherare quell'orribile segreto e il bambino il suo caro bambino non avrebbe più potuto guardarlo senza patire la spaventosa sofferenza di quel dubbio senza sentirsi lacerare le viscere senza essere torturato fin nel midollo delle proprie ossa mi sarebbe toccato vivere là restare in quella casa accanto a quel figlio che avrebbe amato e odiato sì avrebbe certamente finito per odiarlo che supplizio oh se fosse stato certo che li musangherò al padre sarebbe forse riuscito a calmarsi ad addormentarsi nella propria sciagura nel proprio dolore ma non sapere era intollerabile non sapere cercare sempre soffrire sempre e baciare quel bambino continuamente il figlio di un altro portarlo a spasso per la città portarlo in braccio sentire la carezza dei suoi sottili capelli sotto le labbra adorarlo e pensare incessantemente forse non è mio non sarebbe stato meglio non vederlo più abbandonarlo perderlo per strada oppure fuggire lontano così lontano che non avrebbe più sentito parlare di niente mai più ebbe un soprassalto sentendo aprire la porta sua moglie era tornata ho fame disse e voi il limousin il limousin rispose esitando a dire il vero anch'io ed Henriette fece riportare l'arrosto parente si chiedeva hanno cenato oppure hanno fatto tardi per via di un appuntamento d'amore ora mangiavano con grande appetito tutti e due Henriette tranquilla rideva e scherzava suo marito la spiava con sguardi bruschi subito distolti aveva una vestaglia da camera rosa ornata di merletti bianchi la sua testa bionda il suo collo fresco le sue mani glasse uscivano da quel grazioso indumento civettuolo e profumato come da una conchiglia orlata di schiuma che cosa aveva fatto tutto il giorno con quell'uomo parente li vedeva abbrazzati valbettando parole ardenti come poteva non sapere nulla come poteva non indovinare nulla guardandole così fianco a fianco di fronte a lui come dovevano burlarsi di lui se lo avevano ingannato fin dal primo giorno come era possibile prendersi gioco così di un uomo di un brav'uomo solo perché suo padre gli aveva lasciato un po' di denaro perché mai certe cose non trasparivano nelle anime perché mai poteva succedere che nulla rivelasse ai cuori onesti le frodi dei cuori infami che la stessa voce potesse mentire e adulare al tempo stesso e lo sguardo furbo che inganna fosse simile allo sguardo sincero rispiava aspettando un gesto una parola un'intonazione un tratto pensò stasera li coglierò in fallo e disse cara visto che ho licenzato Giulie devo occuparmi fin d'ora di trovare un'altra domestica esco subito per procurarmene qualcuna già per domattina forse rientrerò un po' tardi lei rispose va pure io non mi muovo di qui limousine mi terrà compagnia ti aspetteremo poi rivolgendosi alla cameriera andate a mettere a letto George dopodiché potrete sparecchiare e salire in camera vostra parente si era alzato vacillava sulle gambe stordito traballante morborò a fra poco e raggiunse Lucia appoggiandosi alla parete perché il pavimento oscillava come una barca George se n'era andato tra le braccia della governante Henriette e Limousine si trasferirono in salotto una volta chiusa la porta ma sei impazzita disse lui ad assillare così tuo marito lei si girò sai comincio a trovare eccessiva questa tua abitudine di fare da qualche tempo di parente un martire Limousine si gettò su una poltrona accavallando le gambe non ne faccio affatto martire ma trovo che è ridicolo nella nostra situazione provocare quell'uomo dalla mattina alla sera Henriette prese una sigaretta sul camino l'accese e rispose ma io non lo provoco tutt'altro soltanto che la sua stupidità mi irrita e lo tratto come merita Limousine continuò con voce impaziente è insensato ciò che fai nel resto tutte le donne sono simili come abbiamo un ottimo ragazzo fin troppo buono stupido per fiducia e per bontà che non ci dà alcun disturbo che non ci sospetta neppure per un istante che ci lascia liberi tranquilli quanto vogliamo e tu fai tutto il possibile per farlo andare in collera e per rovinare la nostra vita Henriette si voltò senti cominci a seccarmi sei un vigliacco tu come tutti gli uomini hai paura di quel cretino Limousine salto di scatto e furioso ah questa poi vorrei proprio sapere che cosa ti ha fatto e perché gliene vuoi ti rende infelice ti picchia ti tradisce no è troppo insomma far soffrire un poveretto solo perché è troppo buono e volergliene unicamente perché lo inganni Henriette si avvicinò a Limousine e guardandolo in fondo agli occhi e sei proprio tu a rimproverarmi di ingannarlo tu 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 devi avere proprio la coscienza sporca Limousine si difese con un po' di vergogna ma io non ti rimprovero nulla cara ti chiedo soltanto di risparmiare un po' tuo marito perché abbiamo bisogno l'uno dell'altra della sua fiducia questo mi sembra dovresti capirlo erano vicinissimi l'uno all'altra lui grande bruno con lunghi favoriti il portamento un po' volgare del bel giovane contento di sé lei minuta rosia e bionda una piccola parigina metà sgualdrina e metà borghese nata in un retro bottega educata sulla soglia del negozio ad adescare i passanti con un'occhiata e andata per caso in moglie con il passante innamoratosi di lei per averla vista ogni giorno davanti a quella porta uscendo al mattino e rientrando la sera lei diceva ma non capisci grandissimo ciocco che lo odio proprio perché mi ha sposata perché dopo tutto mi ha comprata perché tutto quel che dice tutto quel che fa tutto quel che pensa mi dà ai nervi mi esaspera continuamente per la sua idiozia che tu chiami bontà per la sua pesantezza che tu chiami fiducia e soprattutto perché è mio marito lui invece di te lo sento tra noi due anche se non ci dà quasi fastidio e poi e poi no è troppo scemo insomma a non sospettare nulla vorrei che fosse almeno un po' geloso ci sono momenti in cui ho voglia di gridare ma non lo vedi bestione non capisci che paul è il mio amante il museo si mise a ridere nell'attesa farei bene a tacere e non turbare la nostra esistenza voilà che non la turberò con quell'imbecille non c'è nulla da temere è incredibile che tu non comprenda quanto mi è odioso quanto mi snerva tu hai sempre l'aria di vezzeggiarlo di stringergli la mano con franchezza gli uomini a volte sono sorprendenti bisogna pur saper dissimulare mia cara non si tratta di dissimulazione caro ma di sentimenti voi altri quando ingannate un uomo si direbbe che l'amiate subito di più noi donne invece li odiamo dal momento in cui li abbiamo ingannati non vedo proprio perché dovrai odiare un bravo ragazzo cui porto via la moglie non lo vedi non lo vedi insomma è un tratto che manca a tutti voi questo che vuoi che ti dica sono cose che si sentono e che non si riescono ad esprimere e poi perché non si dovrebbe no non lo capiresti è inutile voi uomini siete privi di sensibilità e sorridendo con un dolce disprezzo estenuato posò le due mani sulle spalle di Limousin porgendogli le labbra lui chinò la testa verso di lei chiudendola in una stretta e le loro bocche si incontrarono e poiché erano in piedi davanti alla specchiera del camino un'altra coppia del tutto simile a loro si baciava dietro la pendola non avevano udito nulla né il rumore della chiave né il cigolio della porta ma Henriette bruscamente lanciando un grido acuto respinse Limousin con le brazza e videro Parent che li guardava livido con i pugni chiusi scalzo col cappello sulla fronte li guardava l'uno accanto all'altro con un rapido movimento degli occhi senza muovere la testa sembrava folle poi senza dire una parola si avventurò su Limousin lo afferrò con tutte e due le brazza come per strangolarlo lo scaraventò nell'angolo del salotto con uno slancio così impetuoso che l'altro perdendo l'equilibrio e agitando inutilmente le mani in aria andò ad urtare brutalmente il capo contro la parete mariette quando capì che il suo marito stava per ammazzare il suo amante si gettò su parente lo afferrò per il collo e affondando nella carne le sue dita sottili e rosee lo strinse così forte con i suoi nervi di donna perduta che il sangue finì per sgorgare sotto le sue unghie gli morse la spalla quasi avesse voluto sbranarla con i denti parente strozzato soffocante lasciò limousin per scuotere sua moglie ancora appesa al suo collo e afferratala per la vita la scaraventò con un solo spintone dall'altra parte del salotto infine poiché aveva la collera passeggera dei bonari e la violenza asmatica dei deboli restò in piedi tra i due un simante sfinito non sapendo più cosa fare il suo furore brutale si era dissipato in quello sforzo come la spuma di un vino appena strappato la sua energia insolita finiva col fiato corto appena poté parlare balbettò andatevene tutte e due subito andatevene il musai restava immobile nel suo angolo incollato al muro troppo sbigottito per capire qualcosa troppo spaventato per muovere un dito Henriette coi pugni appoggiati a un tavolino la testa in avanti spettinata col corsetto aperto il petto nudo aspettava simile a un animale che sta per spiccare il balzo Parent ripetè con voce ancora più forte andatevene subito andatevene vedendo calmata la sua prima esasperazione sua moglie prese coraggio si rialzò fece due passi verso di lui e quasi da insolente hai forse perso la testa che cosa ti hai preso perché questa aggressione inqualificabile Parentesi di Roberts di lei alzando il pugno per picchiarla e biaccicando questo è troppo troppo e ho ho sentito tutto 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 miserabile miserabile siete due miserabili andatevene tutti e due subito vi ucciderò andatevene lei capì che era finita che lui sapeva che non avrebbe più potuto discolparsi e che bisognava cedere ma tutta la sua impudenza e tutto il suo odio contro quell'uomo le erano tornati e ormai esasperata la spingevano all'audacia le infondevano un bisogno di sfida di spacconeria disse con voce limpida andiamo Limousin visto che sono cacciata vengo con voi ma Limousin non si muoveva Parente colto da un nuovo accesso di collera cominciò a gridare andatevene insomma andatevene miserabili altrimenti altrimenti e farò una sedia facendola volteggiare sopra la testa allora Henrietta attraversò il salotto con un passo rapido prese il suo amante sotto brazzo lo strappò dalla parete dove sembrava sigillato e lo trascinò verso la porta ripetendo su andiamo amico mio andiamo vedete bene che quest'uomo è pazzo andiamo al momento di uscire si girò verso suo marito cercando cosa avrebbe potuto fare avrebbe potuto dire per ferirlo al cuore lasciando quella casa e un'idea le passò per la mente una di quelle idee velenose mortali in cui fermenta tutta la perfidia femminile disse risoluta voglio portare via mio figlio Parente stupefatto balbettò tuo tuo figlio osi parlare di tuo figlio osi osi chiedere tuo figlio dopo dopo questo è troppo osi ma vattene via sgueldrina vattene lei gli si avvicinò di nuovo quasi sorridente quasi già vendicata e provocandolo vicinissima faccia a faccia voglio mio figlio non hai il diritto di tenerlo perché non è tuo hai capito? hai capito bene non è tuo è di Limousin Parente sconvolto gridò oh menti menti miserabile ma lei continuò imbecille lo sanno tutti tranne te ti ripeto che suo padre è lui ma basta guardarlo per accorgersene Parente indietreggiava davanti a lei barcollando poi bruscamente si voltò prese una bugia e si precipitò nella camera vicina tornò quasi subito portando in braccio il piccolo George avvolto nelle coperte del suo letto il bambino svegliato di soprassalto spaventato piangeva Parente lo gettò nelle mani di sua moglie poi senza aggiungere una parola la spinse bruscamente fuori verso le scale dove Limousin già attendeva per prudenza infine chiuse la porta diede due mandate con la chiave e mise il catenaccio una volta tornato nel salotto calde di schianto sul pavimento parte seconda Parente visse solo completamente solo durante le prime settimane che seguirono la separazione lo stupore per quella nuova vita gli impedì di pensare molto aveva ripreso la sua esistenza di scapolo le sue abitudini d'ozio e mangiava al ristorante come un tempo avendo voluto evitare lo scandalo passava a sua moglie una pensione stabilita per lezze ma poco a poco il ricordo del bambino cominciò ad assillare la sua mente spesso quando era solo in casa la sera immaginava di improvviso di udire George gridare papà il suo cuore cominciava subito a battere e Parente si alzava di scatto per aprire la porta delle scale e vedere se per caso il piccino non fosse tornato sì sarebbe potuto tornare come tornano i cani e i piccioni perché mai un bambino avrebbe dovuto avere meno istinto di un animale dopo aver riconosciuto il proprio errore tornava a sedersi nella poltrona e pensava al bambino si pensava per ore intera per giorni interi non era soltanto un'ossessione morale ma anche ancor più un'ossessione fisica un bisogno sensuale nervoso di baciarlo di tenerlo di toccarlo di sederlo sulle proprie ginocchia di farlo saltare e di menare tra le proprie mani si esasperava al febbrile ricordo delle carezze passate sentiva le piccole brazze che gli stringevano al collo la boccuccia che deponeva un grosso bacio sulla barba i sottili capelli che solleticavano la guancia la voglia di quelle dolci tenerezze perdute della sua pelle fine calda e minuta offerta alle labbra lo ossessionava come il desiderio di una donna amata e fuggita via per strada tutta un tratto si metteva a piangere al pensiero che avrebbe potuto averlo là il suo piccolo George trotterellante al suo fianco con i suoi piedini come una volta quando lo portava a passeggio allora rincasava e con la testa fra le mani si inghiozzava fino a sera e poi venti volte cento volte al giorno si faceva la stessa domanda era o non era il padre di George ma era soprattutto di notte che su questo dilemma si abbandonava ragionamenti interminabili appena colicato ricominciava ogni sera la medesima serie di argomentazioni disperate dopo la partenza di sua moglie inizialmente non aveva più avuto dubbi il bambino indubbiamente apparteneva al limousine poi a poco a poco tornò ad esitare sicuramente l'affermazione di Henriette non poteva avere alcun valore lo aveva sfidato cercando di spingerlo alla disperazione soppesando freddamente pro e contro c'erano buone possibilità che avesse mentito soltanto limousine forse avrebbe potuto dire la verità ma come sapere come interrogarlo come convincerlo a confessare talvolta parente si alzava in piena notte deciso ad andare da limousine a pregarlo a offrirgli tutto ciò che voleva per mettere fine a quella abominevole angoscia e poi poi rimaneva a letto disperato dopo aver riflettuto che anche l'amante avrebbe certamente mentito avrebbe mentito certamente per impedire al vero padre di riprendersi suo figlio allora che fare niente e si desolava per aver forzato in quel modo gli eventi per non aver riflettuto pazientato per non aver saputo attendere e dissimulare per un mese o due allo scopo di informarsi sui fatti con i propri occhi avrebbe dovuto fingere di non sospettare nulla e lasciare che pian piano si tradissero gli sarebbe bastato vedere l'altro baciare il bambino per indovinare per comprendere un amico non bacia come un padre ne avrebbe spiati dietro le porte come mai non ci aveva pensato se limousine rimasto solo con George non l'avesse afferrato subito stretto tra le braccia baciato appassionatamente se l'avesse lasciato giocare con indifferenza senza occuparsi di lui nessuna esitazione sarebbe più stata possibile non era non si credeva non si sentiva il padre e così parente cacciando la madre avrebbe tenuto il suo figlio e sarebbe stato felice interamente felice si girava nel letto sudando e torturandosi cercando di ricordare il comportamento di limousine con il bambino ma non rammentava nulla assolutamente nulla non un gesto non uno sguardo non una parola non una carezza sospetta e poi neanche la madre si occupava più tanto di suo figlio se l'avesse avuto dal suo amante sicuramente l'avrebbe amato di più sicché lo avevano separato da suo figlio per vendetta per crudeltà come punizione perché le aveva sorpresi allora decideva di andare subito all'alba dai magistrati per farsi restituire al piccolo George ma appena presa questa risoluzione si sentiva subito invaso dalla certezza contraria dal momento che Limousin era stato fin dal primo giorno l'amante di Henriette l'amante amato lei doveva essersi concessa a lui con quello slancio con quell'abbandono con quell'ardore che rendono madri le donne un freddo riserbo che aveva sempre mostrato nelle sue relazioni intime con lui parente non era forse anch'esso un ostacolo a che fosse fecondata dal suo amplesso allora lui avrebbe finito per reclamare prendere con sé tenere e curare per sempre il figlio di un altro non avrebbe potuto guardarlo abbracciarlo sentirgli dire papà senza che questo pensiero lo turbasse lo straziasse non è il mio figlio si sarebbe condannato a quel supplizio continuo a quella vita da miserabile no era meglio restare solo vivere solo invecchiare solo e morire solo e ogni giorno ogni notte ricominciavano queste abominevoli esitazioni e queste sofferenze che nulla poteva calmare né terminare temeva soprattutto l'oscurità della sera incombente la tristezza dei crepuscoli allora sul suo cuore era come una pioggia di dolore un'inondazione di disperazione che cadeva con le tenebre che lo annegava e lo sconvolgeva aveva paura dei propri pensieri come sia paura dei malfattori e dinanzi ad essi fuggiva come un animale braccato aveva orrore soprattutto del suo appartamento vuoto così buio terribile e delle strade altrettanto deserte dove brilla di tanto in tanto un lampione a gas dove il passante isolato che si sente da lontano sembra un vagabondo e fa rallentare o affrettare il passo seconda che venga verso di noi o che ci segua e parente a suo malgrado per istinto andava verso le grandi strade illuminate e popolose la luce e la folla lo attiravano lo occupavano e lo stordivano poi quando era stanco di errare di vagabondare nelle fiumane di gente quando vedeva i passanti diventare più radi i marciapiedi più sgombri il terrore della solitudine del silenzio lo spingeva verso un grande caffè pieno di clienti e di luce ci andava come le mosche vanno alla fiamma si sedeva davanti a un tavolino rotondo e chiedeva un boccale di birra lo beveva lentamente inquietandosi ogni volta che un avventore si alzava per andarsene avrebbe voluto prenderlo per il braccio trattenerlo pregarlo di restare ancora un po' tanto paventava l'ora in cui il cameriere in piedi davanti a lui avrebbe pronunciato con aria infuriata andiamo signori si chiude infatti ogni sera era l'ultimo ad uscire vedeva rientrare i tavoli spegnersi ad uno ad uno i lampioni a gas tranne due il suo e quello della cassa guardava con occhio mesto la cassiera contare il denaro e chiuderlo nel cassetto e se ne andava spinto fuori dal personale che mormorava ma guarda che imbranato si direbbe che non sappia dove andare a dormire e non appena si ritrovava solo nella strada buia ricominciava a pensare al piccolo George e a scervellarsi e a torturarsi la mente per scoprire se fosse o non fosse il padre del suo bambino prese così l'abitudine di bazzicare le birrerie dove il continuo contatto con i bevitori si circonda di un pubblico familiare silenzioso dove il grasso fumo delle pipi addormenta le ansie mentre la densa birra appesantisce la mente e placa il cuore vi passò la vita appena alzato vi andava a cercare qualche vicino per occupare lo sguardo e il pensiero poi per la pigrizia di muoversi finì presto quel consumarvi anche i pasti verso mezzogiorno batteva sul tavolino di marmo con il piattino e il cameriere portava rapidamente un piatto un bicchiere un tovagliolo e il pranzo del giorno finito di mangiare beveva lentamente il suo caffè con lo sguardo fisso sulla grossa caraffa di acquavite che gli avrebbe concesso presto un'ora di abbruttimento da prima bagnava solo le labbra nel cognac come per assaporarlo cogliendo cogliendo soltanto il sapore del liquido con la punta della lingua poi lo versava nella bocca goccia a goccia rovesciando la testa all'indietro faceva lentamente vagare il forte liquore sul palato sulle gengive sulla mucosa delle guance mescolandolo alla limpida saliva che quel contatto faceva sgorgare quindi addolcito da quel miscuglio lo ingoiava con raccoglimento sentendolo fluire giù nella gola fino in fondo allo stomaco dopo ogni pasto sorbiva così per oltre un'ora tre o quattro bicchierini che lo intorpidivano a poco a poco allora chinava la testa sul ventre chiudeva gli occhi e sonnecchiava si svegliava a metà pomeriggio tendendo subito la mano verso il boccale di birra che il cameriere aveva posato davanti a lui durante il suo sonno poi bevutolo si sollevava sulla panca di velluto rosso dava una sistemata a pantaloni e panciotto per coprire lo scorcio birichino creatosi nel frattempo tra i due assestava il colletto della giacca tirava i polsini della camicia fuori delle maniche quindi riprendeva ai giornali da letti al mattino li ripercorreva dalla prima all'ultima riga ivi comprese le pubblicità le inchieste di impegno gli annunci il listino della borsa e i programmi dei teatri tra le quattro e le sei andava a fare un giro per i viali per prendere un po' d'aria diceva poi tornava a sedersi al posto che gli avevano conservato e ordinava il suo solito assenzio allora chiacchierava chiacchierava con i clienti abituali con cui aveva fatto conoscenza cominciavano con le notizie del giorno i fatti di cronaca e gli avvenimenti politici così arrivava l'ora di cena la serata trascorreva come il pomeriggio fino al momento della chiusura per lui era l'istante più terribile in cui bisognava tornare nell'oscurità nella camera vuota piena di spaventosi ricordi di pensieri orribili e di angosce non vedeva più nessuno dei suoi vecchi amici nessun parente nessuno che potesse rammentargli la vita passata e visto che il suo appartamento si stava trasformando per lui in un inferno prese una camera in un grande albergo una bella camera all'ammezzato per poter vedere i passanti non era più solo in questo vasto alloggio pubblico sentiva brulicare la gente attorno a sé udiva voci dietro i tramezzi e quando le sue vecchie sofferenze lo assillavano troppo crudelmente davanti al letto pronto per la notte e al focolare solitario usciva negli ampi corridoi e passeggiava come una sentinella lungo tutte le porte chiuse guardando con tristezza le scarpe accoppiate dinanzi a ciascuna di esse le graziose polacchine da donna acquattate accanto ai robusti stivali da uomo e pensava che tutte quelle persone probabilmente erano felici dormivano teneramente fianco a fianco o abbrazzati nel calore del loro giacilio trascorsero così cinque anni cinque anni cupi senza altri eventi che amori da un paio d'ore da due luigi di tanto in tanto un giorno mentre faceva la sua solita passeggiata tra la Madeleine e Gui Duo scorse ed un tratto una donna il cui aspetto lo colpì un grosso signore e un bambino la accompagnavano tutti e tre camminavano davanti a lui si chiedeva dove ha mai visto quelle persone quando improvvisamente riconobbe un gesto della mano era sua moglie sua moglie con Limousin e con suo figlio con il piccolo George in cuore gli batteva tanto da farlo soffocare tuttavia non si fermò voleva vederli e li seguì si sarebbe detta una famiglia un'onesta famiglia di buoni borghesi Henriette si appoggiava al braccio di Paul lo guardava teneramente guardandolo talvolta di lato parente la vedeva allora di profilo riconosceva la linea graziosa del suo viso i movimenti della bocca il sorriso ma a preoccuparlo era soprattutto il bambino come era grande e forte parente non riusciva a scorgere il volto ma soltanto dei lunghi capelli biondi che ricadevano sul collo in ciocche ricciolute era il piccolo George quel ragazzo alto con le gambe nude che camminava come un ometto accanto a sua madre allora che si fermarono davanti a un negozio per un istante li vide tutti e tre il musang era incanutito invecchiato dimagrito sua moglie al contrario più fresca che mai e alquanto ingrassata George era diventato irriconoscibile così diverso da un tempo si rimisero in cammino parente li seguì di nuovo poi li superò a grandi passi per tornare indietro a rivederli da vicino in faccia quando incrociò il fanciullo ebbe voglia una voglia folle di prenderlo tra le braccia e di riportarlo via lo toccò come per caso il piccolo girò la testa e guardò quel signore malaccorto con occhi contrariati allora parente scappò via inseguito ferito da quello sguardo fuggì come un ladro afferrato dall'orribile paura di essere stato visto e riconosciuto da sua moglie e dal suo amante andò di corsa fino alla birreria e si accaciò anzante sulla sua sedia quella sera beve tre assenzi per quattro mesi serbò nel cuore la piaga di quell'incontro ogni notte li rivedeva tutti e tre felici e tranquilli padre, madre e figlio passeggiare nel viale prima di tornare a casa per la cena quella nuova visione cancellava la vecchia era un'altra cosa un'altra allucinazione ormai e anche un altro dolore il suo piccolo George colui che aveva tanto amato e baciato un tempo si dileguava in un passato lontano e finito e parento ora vedeva un altro George una specie di fratello del primo un ragazzotto dai polpacci nudi che neppure lo riconosceva a questo pensiero soffriva terribilmente l'amore del piccino era morto nessun legame esisteva più tra loro il bambino non avrebbe più teso le braccia vedendolo l'aveva perfino guardato con un'occhiata malvagia poi a poco a poco la sua anima ritrovò pace le sue torture mentali si affievolirono l'immagine apparsa davanti ai suoi occhi e che ossessionava le sue notti divenne incerta più rara ricominciò a vivere pressa poco come tutti come ogni disoccupato che beve boccali di birra sui tavoli di marmo e logola il fondo dei pantaloni sul velluto liso delle panche invecchiò nel fumo delle pipe perse i capelli sotto la lampada gas considerò avvenimenti il bagno settimanale l'acquisto di un vestito nuovo o di un cappello quando arrivava alla birreria con un nuovo cappello sulla testa si contemplava a lungo nello specchio prima di sedersi se lo metteva e se lo toglieva parecchie volte di seguito lo indossava in vari modi e infine chiedeva alla sua amica la signora alla cassa che lo guardava interessata trovate che mi stia bene due o tre volte all'anno andava a teatro ed estate passava talvolta le sue serate in un caffè concerto degli Champs-Élysées ne usciva conservando nella mente arie che riecheggiavano in fondo alla sua memoria per parecchie settimane e che lui stesso canticchiava battendo il tempo con il piede quando era seduto davanti al suo boccale gli anni si susseguirono lenti monotoni e brevi perché erano vuoti parente non se li sentiva scivolare addosso andava incontro alla morte senza muoversi senza agitarsi seduto di fronte a un tavolino di birreria soltanto il grande specchio dove osservava il proprio cranio ogni giorno più spoglio rifletteva i guasti del tempo che passa e fugge divorando gli uomini i poveri uomini ormai non pensava più se non qualche rada volta al dramma orribile in cui era sprofondata tutta la sua vita poiché vent'anni erano trascorsi da quella serata incredibile ma l'esistenza che si era creata in seguito l'aveva logorato rammollito esaurito e spesso il padrone della birreria il sesto padrone dal suo ingresso in quel locale gli diceva dovreste scuotervi un po' signor parente dovreste prendere un po' d'aria andare in campagna vi assicuro che siete molto cambiato negli ultimi mesi e quando il suo cliente era uscito il commerciante comunicava le sue riflessioni alla cassiera quel povero signor parente ha preso una brutta china non gli giova di certo non lasciare mai Parigi consigliategli di andare qualche volta nei dintorni a mangiare una zuppa di pesce visto che con voi ha un po' di confidenza estate alle porte e lo rimetterà in sesto e la cassiera piena di pietà e di benevolenza per quell'avventore ostinato ripeteva ogni giorno a parente su via signore decidetevi a prendere un po' d'aria è così bella la campagna quando è bel tempo oh io se potessi ci passerei la vita e gli confidava i suoi sogni i sogni poetici e semplici di tutte le povere ragazze chuse per tutto l'anno dietro le vetrine di un negozio che guardano passare la vita fittizia e rumorosa della strada vagheggiando la vita calma e dolce dei campi la vita sotto gli alberi sotto il sole radioso che inonda i prati i boschi profondi i limpidi fiumi le mucche distese sull'erba e tutti i tipi di fiori fiori di campo azzurri rossi gialli viola lilla rosa bianchi così gentili così freschi così profumati tutti i fiori della natura che si raccolgono passeggiando e con cui si fanno grossi mazzi provava piacere nel parlarvi incessantemente del suo eterno desiderio irrealizzato irrealizzabile e lui un povero vecchio senza speranze provava piacere ad ascoltarla ora si sedeva accanto alla cassa per chiacchierare con la signora Zoe e discutere sulla campagna assieme a lei allora poco a poco gli venne un vago desiderio di andare a vedere una volta che si stava davvero così bene come dicevano fuori delle mura della grande città un mattino si decise sapete dove si può mangiare bene nei dintorni di Parigi le rispose andate alla terrazza di Saint Germain è un posto così carino vi aveva passeggiato un tempo all'epoca del fidanzamento decise di tornarci scelse una domenica senza una ragione speciale unicamente perché si è soliti uscire la domenica anche quando non si fa niente per tutta la settimana sicché partì una domenica mattina per Saint Germain erano i primi di luglio una giornata calda e luminosa seduto accanto allo sportello dello scompartimento vedeva scorrere gli alberi e le bizzarre casette dei dintorni di Parigi si sentiva triste seccato per aver ceduto a un desiderio nuovo per aver rotto le proprie abitudini il paesaggio mutevole eppure sempre uguale lo stancava aveva sete sarebbe sceso volentieri alla prima stazione per sedersi al caffè intervisto dietro all'edificio bere un boccale o due e riprendere il primo treno per Parigi e poi il viaggio gli sembrava lungo lunghissimo se ne stava seduto per giorni interi purché avesse sotto gli occhi le stesse cose immobili ma trovava snervante e faticoso restare seduto cambiando luogo veder mutare il paesaggio intero mentre lui non faceva un movimento si interessò tuttavia alla senna ogni volta che la attraversò sotto il ponte di chatou vide delle iole che passavano spinte a grandi colpi di remi da cannottieri dalle braccia nude pensò quei giovanotti di sicuro non si annoiano il lungo nastro del fiume che si snodava da un capo all'altro del ponte di Pec svegliò in fondo al suo cuore un vago desiderio di passeggiare lungo quelle sponde ma il treno si inabissò sotto la galleria che precede la stazione di Saint Germain per fermarsi subito dopo davanti al marsapiede d'arrivo parente scese e appesantito dalla stanchezza si avviò con le mani dietro la schiena verso la terrazza poi arrivato alla ringhiera di ferro si fermò per guardare l'orizzonte l'immensa pianura si estendeva di fronte a lui vasta come il mare tutta verde e gremita di grossi villaggi popolosi come città strade bianche attraversavano quella vasta contrada tratti di foreste la rimboschivano qua e là gli stagni di Véginet brillavano come lastre d'argento e le lontane colline di Saint Noir e di Argentel si delineavano dietro una bruma leggera e azzurroniola che le lasciava appena intuire il sole inondava con la sua luce abbondante e calda tutto quel grande paesaggio un po' velato dai vapori mattutini dal sudore della terra riscaldata che si sprigiona in nebbie sottili e dagli aliti umidi della Senna che si snodava come un serpente senza fine attraverso le piane circondava i villaggi e costeggiava le colline una leggera brezza carica del profumo delle fronde e delle linfe accarezzava la pelle penetrava in fondo al petto sembrava ringiovanire il cuore alleggerire lo spirito di vivificare il sangue parente sorpreso la aspirava a pieni polmoni con gli occhi abbagliati dalla distesa del paesaggio murmurò però si sta bene qui poi fece due passi e si fermò di nuovo per guardare gli sembrava di scoprire cose nuove e sconosciute non le cose viste dai suoi occhi ma cose avvertite dalla sua anima avvenimenti ignorati felicità intraviste gioie inesplorate tutto un orizzonte di vita che non aveva mai sospettato e che si apriva bruscamente davanti a lui di fronte a quella prospettiva illimitata di campagna tutta la spaventosa tristezza della sua esistenza e apparve illuminata dalla luce violenta che inondava la terra vide i suoi vent'anni di caffè tetri monotoni mesti avrebbe potuto viaggiare come tanti altri andarsene lontano lontano presso popoli stranieri in terre poco conosciute al di là dei mari interessarsi a tutto ciò che appassiona gli altri uomini alle arti alle scienze amare la vita dalle mille forme la vita misteriosa incantevole o ardente sempre mutevole sempre inesplicabile e insolita ormai era troppo tardi avrebbe tirato avanti di boccale in boccale fino alla morte senza famiglia senza amici senza speranze senza curiosità per alcunché un infinito oscuramento lo invase e una voglia di fuggire di nascondersi di tornare a Parigi nella sua birreria e nel suo torpore tutti i pensieri tutti i sogni tutti i desideri che dormono nella pigrizia dei cuori stagnanti si erano ridestati scossi da quel raggio di sole sulla pianura sentì che se fosse rimasto più a lungo in quel luogo avrebbe perso la testa e raggiunse rapidamente il padiglione Enrico IV per pranzare stordirsi col vino e con l'alcol e parlare almeno con qualcuno prese un tavolino nel boschetto da cui si domina tutta la campagna fece l'ordinazione e pregò che lo servissero alla svelta altri gitanti arrivavano si sedevano ai tavoli vicini si sentiva meglio non era più solo sotto un pergolato c'erano tre persone che pranzavano e aveva visti parecchie volte senza osservarli attentamente come si guardano le persone indifferenti improvvisamente una voce femminile gli diede uno di quei brividi che fanno fremere il midollo delle ossa quella voce aveva detto George ora taglia il pollo e un'altra voce rispose si mamma parente alzò gli occhi e capì indovinò subito chi era quella gente certamente non avrebbe potuto riconoscerli sua moglie era tutta bianca corpulenta una vecchia signora serie rispettabile mangiava avanzando la testa nel timore di macchiarsi benché si fosse coperta il seno con un tovagliolo George era diventato un uomo aveva la barba quella barba ineguale e quasi in colore che si arrizza sulle guance degli adolescenti portava un cilindro un panciotto di traliccio bianco e un monocolo probabilmente un vezzo parente lo guardava stupefatto quello là era proprio George suo figlio no non conosceva quel giovanotto non poteva esistere nulla che li accumunasse il musang era di spalle e mangiava con la schiena un po' curva e così quei tre sembravano felici e contenti andavano a pranzo in campagna in ristoranti conosciuti avevano avuto un'esistenza calma e mite un'esistenza familiare in un buon appartamento caldo e popolato popolato da tutte le inezie che rendono la vita piacevole da tutte le dolcezze dell'affetto da tutte le parole tenere che ci si scambia continuamente quando ci si ama avevano vissuto così grazie a lui parente col suo denaro dopo averlo ingannato derubato rovinato lo avevano condannato proprio lui l'innocente l'ingenuo il buono a tutte le tristezze della solitudine all'abomenevole vita trascorsa tra un marciapiede e una cassa di caffè a tutte le torture morali e a tutte le miserie fisiche avevano fatto di lui un essere inutile perduto smarrito tra la gente un povero vecchio senza gioie possibili senza aspettative che non sperava niente da niente e da nessuno per lui la terra era vuota perché non amava nulla sulla terra poteva vagare per le strade e tra la gente entrare in tutte le case di Parigi aprire tutte le camere non avrebbe trovato dietro nessuna di quelle porte il volto cercato amato volto di donna o di fanciullo che sorride vedendoti e lo rodeva soprattutto quest'idea l'idea della porta che si apre per trovare e abbracciare qualcuno dietro di essa e tutto questo era colpa di quei tre miserabili colpa di quella donna indegna di quell'amico infame e di quel ragazzone biondo che si dava adi arroganti ora se l'aveva col ragazzo come con gli altri due non era forse il figlio di Limousin in caso contrario Limousin lo avrebbe cresciuto e amato non avrebbe lasciato ben presto madre e figlio se non avesse saputo che il bambino era suo veramente suo si crescono forse i figli degli altri dunque erano là vicinissimi quei tre malfattori che lo avevano tanto fatto soffrire parente li guardava irritandosi esaltandosi al ricordo di tutti i suoi dolori di tutte le sue angosce di tutte le sue disperazioni ciò che più lo esasperava era la loro aria placida e soddisfatta aveva voglia di ucciderli di scaraventare loro addosso il suo sifone di acqua di sels di spaccare la testa a limousaine che vedeva abbassarsi continuamente verso il tovagliolo e risollevarsi subito dopo e avrebbero continuato a vivere così senza preoccupazioni senza inquietudini di sorta no no era troppo si sarebbe vendicato lo avrebbe fatto subito dal momento che li aveva sotto mano ma come? rimuginava pensava a qualcosa di spaventoso come succede nei romanzi d'appendice ma non trovava nulla di pratico e beveva un bicchiere dietro l'altro per eccitarsi per farsi coraggio per non lasciarsi sfuggire una simile occasione che probabilmente non gli sarebbe capitata mai più improvviso ebbe un'idea un'idea terribile e smise di bere per maturarla un sorriso gli increspava le labbra mormorava li ho in pugno li ho in pugno ora lo vedremo ora lo vedremo un cameriere gli chiese il signore decidere a qualcos'altro niente un caffè e un po' di cognac il migliore e li guardava sorseggiando i suoi bicchierini c'era troppa gente in quel ristorante per ciò che aveva in mente di fare dunque avrebbe aspettato li avrebbe seguiti infatti sarebbero certamente andati a passeggiare sulla terrazza o nel bosco quando si sarebbero un po' allontanati li avrebbero aggiunti e allora si sarebbe vendicato sì si sarebbe vendicato non era troppo presto d'altronde dopo 23 anni di sofferenze ah non sospettavano minimamente che cosa li attendeva finivano tranquillamente il loro pranzo chiacchierando con sicurezza parente non poteva udire le loro parole ma vedeva i loro gesti calmi a esasperarlo era soprattutto il volto di sua moglie aveva assunto un'aria altera un'aria di grassa bigotta la bigotta inaccessibile corazzata di principi blindata di virtù dopo un po' pagarono il conto e si alzarono allora vide il musè si sarebbe detto un diplomatico in pensione tanto sembrava importante con i suoi bei favoriti soffici e bianchi le cui punte ricadevano sul bavero della finanziera uscirono George fumava un sigaro e portava il cappello sul 23 parente li seguì subito da prima fecero un giro sulla terrazza e ammirarono il paesaggio recidamente come ammirano le persone sazie e quindi entrarono nella foresta parente si fregava le mani e continuava a seguirli da lontano nascondendosi per non destare troppo presto la loro attenzione procedevano a piccoli passi facendo un bagno di verde e di aria tiepida Henriette si appoggiava al braccio di Limousin e camminava dritta al suo fianco la sposa sicura e fiera di sé George abbatteva le foglie col bastone a volte oltrepassava i fossati della strada col salto leggero del puledro pronto a fuggire via nel fogliame parente poco a poco si avvicinava ansimando di emozione e di fatica non era più abituato a camminare presto li raggiunse ma lo colse una paura una paura confusa e inesplicabile e li superò per andare loro incontro e accostarli frontalmente andava col batticuore sentendoli ora dietro di sé e si ripeteva forza è il momento un po' di audacia un po' di audacia è il momento si girò erano seduti tutti e tre sull'erba ai piedi di un grosso albero continuavano a conversare allora si decise e tornò indietro a passi rapidi fermatosi dinanzi a loro in piedi in mezzo al sentiero balbettò con voce secca una voce rotta dall'emozione sono io eccomi non mi aspettavate eh tutti e tre esaminavano quell'uomo che sembrava pazzo continuò a quanto pare non mi avete riconosciuto guardatemi bene sono parente riparente non mi aspettavate eh pensavate che fosse finita finita davvero che non mi avreste visto mai più mai più e invece no eccomi di nuovo ora ci daremo delle spiegazioni ariette sbigottita nascose il volto tra le mani mormorando oh mio dio vedendo quello sconosciuto che sembrava minacciare sua madre Giorgia si era alzato pronto a prenderlo per il collo di musa incosternato guardava con occhi sgomenti quello spettro che dopo aver ripreso fiato per qualche secondo proseguì ora ci daremo delle spiegazioni è giunto il momento mi avevate ingannato mi avevate condannato a questa vita da forzato avete creduto che non vi avrei più ripescato ma il giovanotto la ferrò per le spalle e respingendolo siete pazzo che cosa volete sloggiate subito altrimenti vi darò una lezione parente rispose che cosa voglio voglio insegnarti chi è questa gente ma Giorgia esasperato lo scuoteva stava per picchiarlo l'altro continuò lasciami sono tuo padre guarda un po' se ora mi riconoscono questi miserabili attento il giovane aprì le mani e si voltò verso sua madre parente libero avanzò verso di lei eh diteglielo voi chi sono ditegli che mi chiamo Harry parente e che sono suo padre dato che si chiama George parente dato che voi siete mia moglie dato che vivete tutti e tre col mio denaro con la pensione di diecimila franchi che vi ho segnato da quando vi ho cacciati da casa mia ditegli anche perché vi ho cacciati da casa mia perché vi ho sorpresa con questo furfante con questo infame col vostro amante ditegli dichiarò io un bravo uomo sposato da voi a causa del mio patrimonio e ingannato fin dal primo giorno ditegli chi siete voi e chi sono io balbettava ansimava trascinato dalla collera la donna gridò con voce straziante Paul Paul impediscilielo fallo tacere fallo tacere impediscilielo non deve dire tutto questo davanti a mio figlio il mosai una sua volta si era alzato morborò con voce bassissima tacete tacete rendetevi conto di ciò che state facendo parente proseguì con impeto so perfettamente cosa sto facendo e non è tutto c'è una cosa che voglio sapere una cosa che mi tortura da vent'anni poi rivolgendosi a George che confuso si era appoggiato contro un albero e tu l'ascolta quando lei se n'è andata da casa mia ha pensato che non fosse abbastanza ad avermi tradito ha voluto farmi disperare ancor più tu eri tutta la mia consolazione ebbene ti ha portato via giurandomi che non ero tuo padre che tuo padre era lui ha mentito? non lo so da vent'anni me lo domando avanzò verso di lei tragico terribile e strappando via la mano con cui lei si copriva il volto ebbene vi intimo oggi di dirmi chi di noi due è il padre di questo giovane lui o me vostro marito o il vostro amante su su ditelo il musè si avventò addosso apparente quest'ultimo lo respinse e sghignazzando con furore eh oggi sei coraggioso più coraggioso del giorno in cui ti mettevi in salvo sulle scale perché stavo per ammazzarti ebbene se lei non risponde rispondi tu stesso devi saperlo quanto lei dillo sei tu il padre del ragazzo su su parla tornò verso sua moglie se non volete dirlo a me ditelo almeno a vostro figlio è un uomo oggi avrà indiritto di sapere chi è suo padre io non lo so io non l'ho mai saputo mai mai io non posso dirtelo ragazzo mio stava perdendo la testa la sua voce assumeva toni acuti e agitava le brazza come un epilettico ecco ecco rispondete insomma lei non lo sa scommetto che non lo sa no non lo sa perbacco andava a letto con entrambi nessuno lo sa nessuno chi può saperle certe cose non lo saprai neanche tu figliuolo non lo saprai come non lo so io mai su chiediglielo chiediglielo vedrai che non lo sa neanche io neanche lui neanche tu nessuno lo sa puoi scegliere sì puoi scegliere lui o me scegli buonasera è finita se tua madre si decidesse a dirtelo vieni a dirmelo albergo dei continenti vero mi farà piacere saperlo buonasera vi auguro buon divertimento e se ne andò desticolando continuando a parlare da solo sotto i grandi alberi nell'aria vuota e fresca piena di profumi e di linfe non si voltò per guardarli andava avanti camminando dietro a una spinta di furore dietro a un sospiro di esaltazione con la mente esaltata dalla sua idea fissa ad un tratto si trovò davanti alla stazione un treno partiva lui salì lungo il tragitto la sua collera si placò parente tornò in sé e rientrò a Parigi stupefatto della propria audacia si sentiva spossato come se gli avessero spezzato le ossa ciò nonostante andò a farci un boccale nella sua birreria vedendolo entrare la signorina Zoè sorpresa gli chiese già di ritorno siete stanco parente rispose sì sì molto stanco capirete quando non si è abituati ad uscire basta non ci tornerò più in campagna avrai fatto meglio a restare qui l'ora in avanti non mi muovo più e lei non riuscì a fargli raccontare la sua passeggiata benché ne avesse voglia per la prima volta nella sua vita quella sera parente si ubriacò per davvero e dovettero riportarlo a casa